Molti di noi sono convinti che per fare le cose bisogna affaticare, ma non è proprio così. Impegnarsi in qualcosa di importante non deve essere necessariamente doloroso. Senza fatica non si ottiene qualcosa di valore, è vero. Abbiamo dei problemi, servono delle soluzioni, le soluzioni vanno inventate e vanno applicate. E questo processo non è facile, non è immediato, ci vuole impegno e ci vuole anche una dose di fatica. Però, faticare non assicura matematicamente che si otterrà qualcosa di valore. Potremmo essere impegnati nella realizzazione di una soluzione che non ha valore, però stiamo faticando. E se noi pensiamo che faticare è garanzia di successo, ci stiamo sbagliando. Quando prendi un impegno, ovviamente rispetta te stesso e, ancora di più, rispetta la vita. Questo è importante, più della fatica. Rispetta la vita. Ogni tua attività deve essere etica, deve essere vitale, devi creare qualche cosa che ha un futuro. Altrimenti ti rovini, vai in depressione e fallisci, quindi la fatica, che si associa a rovinarsi, alla depressione, a fallire, è lontano dalla vita. Quando tu prendi un impegno, devi rispettare la vita. Ogni tua attività deve essere etica e vitale. Impegnarsi non deve essere doloroso. Impara a fare meglio ciò che merita di essere fatto. Sii più abile, meglio attrezzato, aperto di mente e sarai più efficiente, ottenendo risultati di valore senza perderti a causa di fatica e dolore. Il mondo è pieno di fatica e di dolore e non serve a niente. Le soluzioni vincenti, le soluzioni che servono, derivano dall'abilità, da una buona organizzazione, da una buona attrezzatura e soprattutto dall'apertura mentale che ti permette di essere efficiente per inventare le soluzioni che ti permettono di ottenere risultati di valore. Grazie a tutti.